Ecco, Cofferati, a suo giudizio, quello che ci dice Tremonti è chiaro a chi ci governa, e non parlo solo dell'Italia, parlo dell'Europa, parlo del mondo, perché dovremmo abituarci a ragionare in termini più globali, a tenere un pochino più alto lo sguardo. Secondo lei questo ragionamento che ci fa Tremonti è un ragionamento che hanno chiaro le persone che decidono nei vari paesi? No, non ce l'hanno per niente chiaro, stanno sottovalutando quali sono gli effetti della caduta dell'oggetto simbolo, simbolo della ricchezza, simbolo della crescita economica, simbolo della libertà, le cose che diceva prima anche il professore. La crisi in atto è una crisi che nasce da fattori contingenti, in Germania indubbiamente lo scandalo di Zelghieta ha pesato enormemente, però dietro c'è anche un cambio della natura, della domanda. Quell'oggetto non ha più le funzioni, le potenzialità di prima, quella che ci avete fatto vedere di Sant'Agata è una fabbrica bellissima. Non a caso però è tedesca, cioè peraltro. Non solo è tedesca, d'altro canto noi non produciamo più auto, quella di Torino è olandese, come dovrebbero sapere anche gli italiani. Di italiano Torino è rimasta la Juventus, il resto non è più roba nostra. Però quell'oggetto sta precipitando nella percezione della sua utilità e del suo valore anche simbolico tra le persone. Dicevo di Zelghieta, ha avuto una ripercussione su Volkswagen enorme, l'ha portata quasi al disastro. Io non so se Volkswagen riuscirà ad uscire dalle difficoltà attuali, vuole dimensionare la sua attività produttiva e il lavoro che ne consegue ancora in questi tempi. È un anno che sta malissimo, non riesce a trovare una via per uscirne. Ma il calo riguarda tutto il settore. È fatto da fattori contingenti come quello che stavo commentando, ma anche dall'idea che l'auto non abbia più il peso, il valore e l'importanza di prima nella domanda. Chi governa in Europa, l'ho visto quando si è discusso a lungo di Dieselgate, ma anche poi a casa nostra, non ha la minima attenzione sulle ragioni che il dramma che incombe per ragioni contingenti nasconde. Noi non produciamo automobili, ma abbiamo una parte del nostro settore manifatturiero più importante nell'indotto dell'auto, dal pneumatico a tutta la componentistica. infatti è lì che volevo anche portare...